le tre grandi religioni monoteistiche, così come affermato nella stessa risoluzione dell'UNESCO. Le parole del Presidente del Consiglio, che ha definito allucinante tale decisione e che ha detto che avrebbe discusso anche con lei e rivisto questa posizione, ci dicono appunto che forse l'Italia ha cambiato la sua posizione. Le chiediamo se non intenda chiarire la posizione dell'Italia sulla questione palestinese e soprattutto quando e come intendo approvare e portare avanti gli impegni assunti da questo Parlamento rispetto al riconoscimento dello Stato palestinese. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni Silveri ha facoltà di rispondere per tre minuti. Sì, onorevole Palazzotto, io mi concentrerò soprattutto su quest'ultima parte, anche perché ci sono diverse interrogazioni poi sulla questione della risoluzione all'UNESCO. La posizione italiana credo che sia chiara e coerente da molti anni e cioè noi siamo uno di quei Paesi che insiste sulla necessità di portare avanti questa strategia che porti alla soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, capaci di vivere in pace e sicurezza. Dobbiamo dirci molto chiaramente, francamente, che la prospettiva negoziale in questa direzione ha subito dei rallentamenti, è in una situazione di stallo. Lo stallo produce elementi di gravissima difficoltà. Il proliferare di insediamenti che l'Italia ha sempre criticato, la violenza che l'Italia condanna senza sé e senza ma. In questo contesto io ho sempre ritenuto, l'ho detto in quest'Aula, già rispondendo a un'interrogazione del suo gruppo, che il riconoscimento formale dello Stato palestinese deve essere un passo dentro questo percorso. È un impegno che il Parlamento ha preso e che il Governo intende rispettare nelle condizioni che la stessa risoluzione a cui fa riferimento l'On. Palazzotto diceva, e cioè il riconoscimento da effettuare, cito, al momento opportuno e nelle appropriate condizioni. Tutti i governi europei, il Governo spagnolo, francese, inglese, i cui Parlamenti tra fine 2014 e inizio 2015 hanno votato risoluzioni simili a quelle italiane, si sono attenuti a questa regola, e cioè tenere la carta del riconoscimento formale nel momento in cui sarà più utile, fondamentale per dare una spinta vera al processo di pace e non per fare un atto semplicemente simbolico. Naturalmente noi in questo quadro continuiamo a collaborare con le autorità palestinesi, io ho presieduto il comitato misto tra i due governi l'anno scorso a Ramallah, abbiamo grandissime attività di cooperazione, facciamo sentire la nostra voce, come farà a partire da sabato prossimo nella sua missione in Palestina e in Israele il Presidente della Repubblica Mattarella. Grazie, a facoltà di replicare l'On. Palazzotto. Due minuti. Grazie, signor Presidente. Vede, signor Ministro, faccio riferimento alle sue parole, in merito al momento opportuno che sono poi anche quelle riportate nella risoluzione di questo Parlamento. Il problema è che quel momento opportuno sembra non arrivare mai e l'opportunità è qualcosa che manca, forse anche al nostro Presidente del Consiglio. Definire allucinante una risoluzione dell'UNESCO che critica Israele perché non permette ai tecnici dell'UNESCO di accedere alla spinata delle moschee per verificare ed eventualmente intervenire per il ripistino del patrimonio culturale, storico e architettonico di un luogo di culto così importante. Mi sembra veramente assurdo, soprattutto quando il Presidente del Consiglio non ha mai trovato il momento opportuno per esprimere una critica né confronto.